Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video Mi trovo su iPixel, vi faccio anche l'occhiolino perché ho trovato delle strane emoticons Che posso indossare, sono tipo dinamiche fighissime Comunque ci troviamo qui non per giocare con le emoticons Ma per fare delle nuove build battle Ho visto che ultimamente ne ho portate un po', vi sono piaciute A me piace costruire, quindi benvenga E quindi ragazzi, andiamo in partita, facciamo due manche Vediamo se riusciamo a vincere Perché sono un po' arrugginito e devo recuperare Wow ragazzi, dobbiamo fare un inseguimento di auto Questa cosa l'avevo già fatta Ma l'avevo fatta non in un mio video Quindi penso possa andare bene, potremmo anche farlo Allora, come facciamo un inseguimento di auto? Dobbiamo creare l'asfalto prima di tutto Quindi direi di prendere della lana nera e della lana bianca Non sarà facile fare l'asfalto, però usiamo come base la lana nera E poi partendo dal centro, praticamente da qui, mettiamo due pezzi di lana Lasciando un buco di uno, così sembra un'enorme strada con due corsie Almeno possiamo simulare poi l'inseguimento di auto Mi ricordo di aver già fatto questo argomento, però sono quasi certo che non era in un mio video Quindi possiamo farlo e in quell'occasione avevo forse fatto un'auto della polizia Cerchiamo quindi di fare una cosa simile Vorrei creare un'auto della polizia Con della nederac E magari potremmo utilizzare del quarzo per le cose Per diciamo i dettagli bianchi Le cose, cosa vuol dire le cose E possiamo mettere allora del carbone con delle botole Qui per fare le ruote Allora, quanto può essere grande un'auto? Facciamo tipo una ruota qui Un'altra ruota qui E altre ruote qui Quindi facciamo qualcosa di abbastanza piccolo Perché abbiamo già 3 minuti e 25 E potrei non fare in tempo Intanto sono in 1.10 E... what the fuck? Che sta succedendo? Non... mi sa che ho l'auto jump Sì, ho l'auto jump, che fastidio Lo dovrò togliere poi per la seconda partita Allora, un'auto come potrebbe essere? Una cosa così Utilizziamo le scale Usiamo la nederac come blocco scuro Dato che non ho un blocco nero Per fare il nero della macchina della polizia Utilizziamo questo Che comunque male non fa Creiamo... creiamo il parabrezza Magari tipo... Non so come farlo mai nella vita Posso dirlo Facciamo una cosa Semplicemente così Ok E mettiamo Tipo lo sportello dell'auto In questo modo Così? Sì, così si unisce Facciamolo così Va bene Quindi perché sto utilizzando il bianco alternato Con i blocchi scuri? Perché appunto Di solito sono i due colori Della macchina della polizia Quindi penso che possano andare bene Chiudiamo un attimo così Abbiamo due minuti e venti Non voglio fare una cosa esagerata Basta che si capisca che è un'auto Mio Dio, è un po' bruttina Però adesso gli aggiungiamo anche dei dettagli Perché prendiamo la redstone Anzi, che redstone Prendiamo le testine Facciamo una bella cosa Allora Andiamo qui Testa Colori Prendi bianco Blu E rosso E facciamo la classica sirena della polizia Quindi il rosso di qui Boom Blu lo mettiamo bene di qua E il bianco al centro Perfetto Adesso dobbiamo fare però Una seconda auto Come la facciamo La seconda auto La faremo Non posso usare i purpura A quanto pare La facciamo arancione Con la sandstone Dai Potrebbe funzionare Riprendo al volo Anche le botole Che erano Oh mio dio Sto facendo un disastro Dove cazzo sono le botole Qua E prendiamo anche i blocchi di carbone Da qui Perfetto Allora Mettiamoci qua Metto Uno Due Due andava qui Tre E quattro Queste saranno le quattro ruote Con i cerchioni Che non riesco a mettere Per qualche strana ragione Io ho solamente un minuto Quindi mi devo anche muovere E velocemente Cerchiamo di ricreare L'altra auto Quindi facciamo così Questo al contrario Questa sarà tutta arancione Suppongo Quindi facciamo semplicemente Così Qua ci sarà il vetro Che purtroppo rimane Sopra le ruote È un po' Assurda come cosa Ma ci accontentiamo Mettiamo delle scale qua Altre scale Qui E poi Dobbiamo chiudere In questo modo Per fare una sorta di alettone Slebbe sul tettuccio E abbiamo fatto un'altra auto Adesso abbiamo 38 secondi È un inseguimento Quindi Dobbiamo fare Particelle di Fumo Forse Possiamo utilizzare queste Vediamo Potrebbe funzionare Quindi mettiamo queste qui E potremmo addirittura Pensare di mettere Una sorta di traccia Di fuoco Sull'asfalto Come se appunto Stesse sgommando E pneumatici Abbiano Lasciato Una scia di fuoco Sul terreno Sembra una cosa figa Da fare Quindi proviamoci Mettine uno qua Boom 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 E potrebbe essere Un inseguimento di auto Sì Potrebbe essere È un po' Bruttino A dirla tutta Non è molto bello Però non è come questo coso Che ha fatto un punto di domanda Perché Non sapeva che cosa fare Suppongo E c'era uno strano paesaggio Lui ha fatto Una sorta di Camioncino Che segue una Una formula 1 Gialla Senza una ruota Ok E questa È una moto Molto abbozzata E Una cosa Che non capisco No gli ho dato ok Mai nella vita Voglio dargli poop Questo è il mio Vediamo che cosa ci danno Non vedo Vedo dei rossi Ci stanno dando un poop Non so mai perché Un ok Ho visto Sono stati un po' Tirchi E questa qui Non mi piace Tutte queste auto squadrate Io mi lamento delle mie Che erano poco dettagliate Però erano già meglio Di sta roba Onestamente Ed lui ha fatto un omino Non capisco il senso Di ossidiana poi perché Non ha veramente senso Questo non è un inseguimento Di auto perché Ce n'è solo una Quindi non sta inseguendo Nessuno Tecnicamente E questa qui Sono auto Con le facce Oddio ragazzi Perché tentano di fare Le cose pucciose Ovunque Attenzione Questa Mi piace Questa mi piace Sono un po' squadrate Però bella Bel lavoro con questa Veramente bel lavoro E qui invece C'è una sorta di Non lo so Dai li do un ok Perché mi piace Che ha fatto lo sterrato Così Però le auto Non erano fatte benissimo E questa invece Non mi piace per nulla È veramente Troppo Diciamo Elementare Cos'è quella auto Lì della polizia E queste sono delle Questa è un hammer Gialla È assolutamente Un hammer gialla E hanno delle ruote Rettangolari E attenzione Sono riuscito A vincere GG Dai mi stavo lamentando Che non l'avevo fatto Troppo bene Invece ho vinto Con 66 punti Non è piaciuto nulla In particolare Però diciamo Che ce la siamo giocata E abbiamo portato a casa Questa prima vittoria Molto bene Dobbiamo fare Un sottomarino Bello Bello Questo Sapete cosa faccio Farò Un sottomarino Giallo Appunto Yellow Submarine Come la canzone Giallo Giallo Però utilizziamo La clay Perché il giallo Dell'oro È davvero troppo acceso E si vedono i contorni Quindi cominciamo così Come fai un sottomarino Però Dobbiamo simulare Un ambiente Subacquio Il che non sarà facile Comunque Iniziamo a mettere giù Uno sfondo d'acqua Ovviamente non possiamo fare tutto sott'acqua Quindi cercheremo di Fare una sorta di sottomarino Che vola Sopra questa superficie d'acqua Suppongo Allora Facciamo una base Così Lo facciamo Lungo 5 Con i centri Lunghi 7 Poi lasciamo Due di spazio Qualcosa così Magari allunghiamolo ancora un po' Vediamo Sì Potrebbe essere meglio allungarlo ancora un po' Facciamo la stessa cosa qua sopra In modo da Creare Diciamo L'altra superficie Del nostro sottomarino Ora Lateralmente Ho lasciato Due blocchi Mi conviene lasciarne tre Perché adesso vi spiego Il motivo Allora Togliamo tutta sta roba Via 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 E Ripercorriamo Quello che stavamo facendo Così Allora Perché Ho fatto tre E non due Perché Adesso Anche lateralmente Faremo la stessa forma In modo da renderlo tutto Omogeneo Quindi saliamo qui La facciamo appunto Larga tre Chiudiamo tutto per bene Ok E poi facciamo la punta qui In modo che sia appunto Tutto omogeneo Ci avanzano tre minuti Quindi devo comunque Muovermi Non devo Perdermi troppo In costruzioni Troppo Grandi Perché sto facendo qualcosa Forse di troppo grande Allora Il nostro sottomarino Inizierà così Adesso Prendiamoci Vediamo Prendiamo dei bottoni E prendiamo Ovviamente Il vetro Per fare La botola Potrebbe essere bianco Come potrebbe essere Il vetro classico Quindi proviamo A metterlo bianco Un attimino Ci sta anche bianco Ragazzi Facciamo bianco Ne vorrei fare però Un terzo Quindi ci mettiamo qui E allunghiamo tutto Di uno Così ci sta anche Il terzo Oblò Perfetto Anche dall'altra parte Uno Due E tre E poi Mettiamo qualche dettaglio Attorno all'oblò Così Perché sapete Che di solito Gli oblò Hanno attorno Una sorta di Protezione In non so Quale ferro Però Quale metallo Scusate Con tutte le viti Che tengono fermo Il vetro Giustamente Comunque Non perdiamoci In chiacchiere Chiudiamo subito Qui in qualche modo Cerchiamo di fare Una cosa così In diagonale Suppongo E poi Facciamo una croce Di vetro Ok E l'argilla Per chiudere la forma Questa sarà appunto La parte frontale Del sottomarino Entriamo da qui Mettiamoci anche Una Sedia Che simuleremo Con un semplice gradino Così Ci mettiamo Delle leve Per fare Diciamo I controlli Del sottomarino E ci mettiamo Un villager Per fare Il pilota Del sottomarino Ovviamente Quindi mettiamo Villager qui Che sarà Un Medico Non c'è il medico Fa il librarian Non lo so a caso E devi guardare Verso di me Ok Perfetto Ora Chiudiamo L'altra parte Del sottomarino Dobbiamo essere Svelti Perché ci manca Un minuto solamente Però Stiamo andando Abbastanza bene Secondo me Quindi GG Chiudiamo Semplicemente così Con una croce E poi A distanza Facciamo Tipo Le ventole Del sottomarino Quindi direi Di prendere I muretti Che potrebbero essere Meglio delle sbarre E creiamo Una sorta di Ventolina Che Non saprei Come fare Però onestamente Perché Faccio Un effetto Svastica So già che qualcuno Potrà dire Eh una svastica Che brutta cosa In effetti Sembra una sorta Di svastica Però Che ci dobbiamo fare Facciamo che Togliamo Questi Pezzi Finali E penso che Anche così Si capisca Che cos'è Comunque Mentre qui Facciamo Il classico Tubicino Che esce Dove Diciamo Che Si può Vedere Fuori Dall'acqua Non so come si chiama Quel Oddio Non so come si chiama Quel cazzo Da fare Che esce E mentre loro Sono sott'acqua Possono vedere Fuori dalla superficie Ora Per simulare Il fatto Che siamo Sott'acqua L'unica cosa Che posso fare È mettere La notte In questo modo E se ci avanza Del tempo Prendo la Glowstone E gli facciamo Uno E due Fari Così In notturna Non sembra che Stia fluttuando Proprio tanto Fuori dall'acqua Che cos'è Che cos'è Questa cosa Ragazzi Non ho capito Ok C'è subito il mio Vediamo che cosa ci danno Che Prima non ho Assolutamente capito Vedo un verde Good Due good Un epic No good Un rosso Un rosicone Mi ha dato un bel poop Stronzo E Vabbè ci sta Ovviamente anche Dari poop Tant'è che Do un poop a lui Perché fa veramente Schifo Non sapevo Che cos'era In che modo È un sottomarino Questa cosa Esattamente Iniziamo a dargli poop E poi cerchiamo di capire Perché Ok Lui invece ha fatto Una cosa Carina Preferisco il mio Però gli do un ok Perché comunque Ha fatto bene Vedete anche lui Ha fatto questo robo In cima Che non so Come si chiama Lui ha fatto Un sottomarino Vuoto La forma però Mi piace Sapete gli do un ok Perché L'ho apprezzato Lui ha fatto un sottomarino Giallo come il mio Però fa schifo Quindi gli diamo poop Logicoxy Vabbè Mi spiace Logicoxy Ma preferisco Di gran lunga Il mio Onestamente Lui Eh Lui ha provato A fare qualcosa Di particolare Però mi sembra Più che altro Un autobus Spiaggiato Cioè non ha proprio la forma Adatta E lui uguale Lui proprio Va in compagnia Con quello di prima Sono assolutamente Simili Quindi gli diamo poop Anche a lui Un altro sottomarino Giallo Ok Comunque in tanti Hanno pensato Alla canzone Probabilmente Che ovviamente Il sottomarino Giallo è anche Ormai nell'immaginario Comune E oh mio dio Vabbè raga Raga Epic Non ho mai dato Epic Nel mio video Ma l'ha fatto È davvero bello Anche un legendary Davvero bello Ha fatto un sottomarino Militare Non ci avevo pensato Ed è uscito Una figata Complimenti Non so chi era Ma complimenti Lui poop Perché non lo capisco No in realtà Ok Meritava ok Ho sbagliato Ho sbagliato Però quello di prima Mi ha un attimo sconvolto Cioè era davvero Veramente figo Complimenti Spero vinca E infatti vince Noi siamo arrivati Quinti Non lo so Non so se è giusto Sbagliato Però sicuramente Lui meritava la vittoria Guardate che bello Non ci ho pensato Di fare Il classico Sottomarino Militare In questo caso Sembra avere Uno stile americano No È davvero Molto figo Se ci avessi pensato Avrei provato Anch'io a fare Una cosa così Sarebbe stato bello Provarci Però Mannaggia Non mi è venuta L'idea giusta E nelle build battle Bisogna premiare Anche le idee Quindi GG E quindi ragazzi Il bottino di oggi È una vittoria È un misero Quinto posto Comunque direi Che possiamo mettere Una bella faccia Ammiccante Felice Perché La vittoria Ci stava tutta Fatemi sapere Che cosa ne pensate Dei risultati E se volete Altre build battle Continuate a supportare Con like O dicendomelo Nei commenti E io volentieri Ne porterò Altre Ogni tanto Le porto così Le registro Nel tempo perso Per questo Le sto facendo Da solo Però se magari Vi piacerebbe Tanto rivederle Potrei anche portarle Con qualcun altro In futuro Insomma Fatemi sapere Che cosa ne pensate Per il momento Vi rifaccio La faccina Ammiccante Vi saluto Un saluto Da Eren Blaze Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti